E allora eccoci rientrati in studio, allora come avevo detto prima della pubblicità, adesso facciamo un po' un focus su Vicenza che nel 2010 è stata sicuramente una delle città interessate dall'alluvione, è una città poi che viene sempre tenuta d'occhio perché poi quello che succede a Vicenza poi si trasferisce poi verso l'Adriatico interessando anche Padova appunto per il passaggio del Bacchiglione. Voi dal 2010 ad oggi vi siete adoperati, avete messo in alto tutta una serie di cose, diciamo anche di informazione nei confronti dei cittadini, no? Sì, allora l'azione del Comune di Vicenza si può mettere su tre livelli, cioè su tre ambiti, un ambito territoriale che ha riguardato un'azione che è iniziata subito dopo gli eventi alluvionali e mirata a individuare quelle che erano le criticità del territorio e di conseguenza sulla base di questo programmare tutta una serie di interventi in maniera coordinata poi con la Regione che chiaramente si occupa di interventi macro tipo le casse che però devono trovare poi nel territorio un'altra tipologia di interventi che sono quelli lì complementari a queste opere, questo nell'ambito del territorio. Nel corso del 2011, 2012, 2013 sono stati realizzati diversi interventi strutturali, quindi impianti di sollevamento dietro i rialzi agiali piuttosto che chiusura dei varchi perché anche la criticità puntuale di un varco lungo l'argine del bacchiglione può portare un allagamento perché un fenomeno di risalita può causare diversi danni, infatti vediamo nella foto appunto, si può osservare come il livello del fiume è ben sopra a quello che è il piano d'imposta delle case, di conseguenza ci sono alcune case, c'erano perché su 60 varchi rilevati dal genio civile ad oggi ne sono stati chiusi 57 e i tre che ci sono sono ad una quota abbastanza alta, però contiamo di... Possiamo dire ai telespettatori che lei ha seguito personalmente questo tipo di attività? Assolutamente, abbiamo seguito da un punto di vista tecnico e anche sul campo perché effettivamente poi bisogna andare a verificare che il cittadino di fronte a una richiesta di mettere un serramento sigillato l'abbia realizzato realmente piuttosto che la richiesta di fare un rialzo originale. L'altro aspetto su cui ci siamo mossi è l'aspetto dell'informazione, quindi la sensibilizzazione della cittadinanza. Come abbiamo fatto? Abbiamo installato un sistema di sirene che vengono azionate nel momento in cui c'è l'onda di piena che arriva, l'onda di piena che arriva, esatto, queste sono le due sirene che sono una nelle campanile di Arracelli, una di San Pietro e come vedete c'è il retino azzurro, sono proprio le aree che sono state alluvionate, state alluvionate ricordo nel 2010 per la rotta in corrispondenza di Viale Rumor e l'esondazione dell'Astichello che arriva proprio in alto a sinistra e la rotta di Contra Dorode, sì, che ha invaso San Pietro. Di conseguenza questi e poi l'esondazione a Ponte degli Angeli. Questo è uno dei punti, l'altro è più a nord, che hanno subito i maggiori danni. È anche uno dei punti in cui c'è il maggior numero di persone come abitanti. Ricordiamo che lì nella zona del Ponte degli Angeli c'è stato più di un metro d'acqua, no? Sì, 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 assolutamente. Sono state molte attività commerciali che sono state allagate, molte case che sono state allagate, studi professionali eccetera. E quindi c'era la necessità nell'attesa di, venissero realizzate le casse, venissero realizzati i rialzi generali, venissero realizzati i sollevamenti, venissero chiusi i varchi, c'era la necessità di creare un sistema di informazione alle persone, in maniera tale che, qualora ci fosse stata l'emergenza, questi fossero preparati e potessero lasciare la loro abitazione. Ricordiamo che questo sistema di sirene è collegato direttamente con quella che è l'azione sempre della regione Veneto di monitoraggio del livello dei fiumi, quindi dell'onde di piena. Quindi, un po', diciamo, conoscendo questi livelli che vengono rilevati da degli idrometri che sono a Valli del Pasubio, a Ponte Marchese, a Ponte degli Angeli, si conosce l'andamento dell'onda di piena e quindi, diciamo, si può per tempo dare delle informazioni. Così si può accedere tramite rete? Sì, sì. Quindi tramite internet? Poi c'è appunto un sito internet, bacchiglione.it, che dà dalle immagini di Ponte degli Angeli e il livello in quel punto. Poi c'è un servizio SMS che coinvolge appunto numerosi cittadini di Vicenza che hanno chiesto di essere iscritti. Poi abbiamo inoltre il sito internet del Comune che dà informazioni in caso di emergenza con dei banner che danno lo stato in cui siamo, perché c'è stato di pre-allerta, allerta e... C'è anche un piano di evacuazione, diciamo. C'è un piano di evacuazione, nel senso che... Oltre che informare i cittadini, ma se succede cosa devono fare? Nel corso degli anni, appunto questo fa parte appunto del lavoro che abbiamo fatto con i cittadini, nel corso degli anni abbiamo creato anche un vodemecum, quindi un opuscoletto che è stato distribuito per far conoscere agli abitanti sia il funzionamento delle sirene, ma cosa devono fare quando sentono le sirene, dove devono mettere la macchina quando sentono le sirene, in maniera tale da ordinare un po' anche i movimenti, dove possono servirsi dei sacchi di sabbia qualora ce ne fosse una necessità, quindi tutta un'organizzazione. Questo... Questo fa significare che non vi sentite ancora sicuri a Vicenza? Beh... Come diceva prima il dottor Spagna, non siamo sicuri. Dobbiamo sempre pensare anche a un'altra cosa, non è che non ci sentiamo sicuri come città, perché il lavoro che noi abbiamo fatto e dobbiamo fare è stato molto, anche la realizzazione della cassa è stata finita adesso, siamo nel 2016, quindi io ricordo solo che nel 2013 abbiamo avuto il bacchiglione che è arrivato a 5,97, nel 2012 è arrivato a 5,75, quindi sono eventi importanti, per cui in quel momento noi non avevamo la cassa di Caldogno e quindi il pericolo poteva rappresentarsi nuovo. Sì, e a supporto, sempre per la parte della cittadinanza, sono state fatte nel corso degli anni due o tre esercitazioni di protezione civile all'anno, orientate proprio al tema dell'idrologia. E quindi avete coinvolto anche i cittadini? Abbiamo coinvolto i cittadini e soprattutto li abbiamo fatti dove c'è il problema, in maniera tale che le persone qualche volta non sopportavano la presenza di molta gente, delle paratie che abbiamo messo, che abbiamo acquistato, delle limitazioni a cui dovevano… Però prendevano coscienza che qualcosa stavano facendo, prendevano coscienza che c'è un problema, quindi prendevano l'opuscoletto, vedevano le persone, quindi c'era tutta una cultura. C'è da lei, gentilmente, ha portato anche due cartine geografiche, adesso vediamo se la regia le riesce a proporre, non so se sia questa la prima che dobbiamo dare. Sì, questa… Ecco, questa qui è la situazione del… Allora, questo è il confronto del 66 con il 2010, allora come si può vedere il giallo è il 2010, l'azzurro è il 66 e si può vedere che nel 2010 gli allargamenti sono stati maggiori per il semplice motivo che il livello raggiunto a Vicenza, nonostante la rotta di Cresole, i livelli sono stati… dunque nel 66 era 5,94, nel 2010 6,15 metri, quindi quei centimetri in più hanno portato ad allargamenti, oltre alle rotte che ci sono state anche all'interno della città. C'è un capo, io volevo tornare un attimo sulle tempistiche, ma per metterci in sicurezza quanti anni ci vorranno? Bellissima domanda. Allora, il tema del tempo non è… Sì, l'abbiamo solo accennato prima, no? Sì, sì. Le tempistiche dei lavori non sono quelli… La messa in sicurezza, diciamo, la programmazione degli interventi di messa in sicurezza c'è e ci sono delle tempistiche collegate ai vari interventi previsti, che sono tempi, come dire, basati sulla esperienza del tecnico rispetto alle opere da eseguire. Quando ho detto che abbiamo completato la cassa di Caldogno nei tempi previsti, a livello progettuale avevamo indicato in due anni il tempo necessario per eseguire la cassa e in due anni la cassa si è eseguita. Però, per poter partire con la realizzazione della cassa, quindi se ci fossimo trovati in una fase di programmazione, abbiamo impiegato sei anni, di cui quattro spesi per ottenere l'autorizzazione dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale. Evidentemente non sono tempi che consentono di programmare e definire tempistiche, perché se io dico che una cassa di laminazione di 5 milioni di metri cubi di invaso la realizzo in due anni, sto dicendo un tempo corretto, ma se lo vado a raccontare ai cittadini che fanno scattare il cronometro, dopo due anni non vedono assolutamente nulla, perché magari siamo ancora bloccati dal ricorso della persona che ritiene che con tutto il rispetto dovuto che l'uccellino che nidifica in quel posto debba continuare a farlo. Ed è corretto, quindi vanno analizzate, studiate eventuali alternative, se è così. Certo, allora 50 anni sono passati, prima l'ingegnere Di Tella ha accennato alla grande opera di difesa dalle maree di Venezia, il Mose, un'opera sulle quali ci sono ancora molti punti interrogativi, tra cui quello del suo libro, se vuole mostrarlo ai telespettatori, il libro è intitolato Il Mose, salverà Venezia? Dunque, abbiamo iniziato, sono stati spesi miliardi, lo ricordiamo e ancora con tutto quello che abbiamo vissuto. Ecco, diciamo che questo libro nasce per un nostro senso civico, cioè non pensiamo che in questo di… Sì, lei è uno degli autori, ce ne sono altri due coautori, ci sono altri due ingegneri, no? Ingegner Bien, ingegner Sebastiani, noi diciamo, essendo esperti di progettazione di opere in mare, perché questa è stata la nostra professione, lo è stato, ero ancora, perché ancora facciamo consulenza in questo campo. Avevamo visto quelli che sono gli aspetti aberranti di questo progetto. È un progetto inutilmente complesso, inutilmente costoso, con gravi difetti di impostazione. Il fatto che un progetto non rispetta quei requisiti previsti dalla legge speciale di gradualità, sperimentalità e reversibilità che la legge impone, e questo progetto non lo rispetta, pone poi tutta una serie di problemi a cascata. Quindi tutti quei problemi che poi si sono verificati, per esempio l'implosione, l'esplosione delle casse di zavorra, mentre stavano zavorrando le basi, poi dopo sono dovuti intervenire con impianti perbarici per correggere, non si capisce come, perché su quello poi non si sa come è stato corretto una struttura in cemento armata che esplosa. Questo sarebbe interessante capire come è stato corretto questo. Purtroppo non ci sono questi tipi di informazioni. Quindi diciamo che noi siamo partiti da questa evidenza, quindi abbiamo proposto un'alternativa che evidentemente non è stata accettata, ma non è stata accettata non solo la nostra proposta, anche altre proposte valide. C'erano le diche che a Rotterdam stanno salvando tutta una parte dell'Olanda da alte maree. San Pietroburgo ha costruito un'opera di difesa, ha preso quelle di Rotterdam, non ha preso mica le paratoie del Mose per realizzare i suoi sbarramenti. Quindi diciamo, non solo la nostra soluzione poteva risolvere quel problema in maniera diversa, qui non c'è il tempo per discuterne, ne voglio discuterne, ma anche altre soluzioni potevano con costi e tempi ragionevoli risolvere il problema. Cioè il sistema di Rotterdam che si è stato costituito non più di cinque anni. Noi siamo dal 2002, quando è stato approvato il progetto definitivo, siamo al 2016 e ancora ci vogliono due anni per completare la costruzione. Dopodiché ci vogliono due anni e mezzo per la messa in esercizio. Cioè se io quando ci siamo occupati di progettazione con le compagnie petrolifere avessi detto, facciamo un progetto, però poi dopo quando l'abbiamo costruito ci dai due anni e mezzo per metterlo in marcia, saremmo stati presi a calci. A calci. E cancellate definitivamente dal mercato. Ci avrebbe messo una blacklist e nessuno mai ci avrebbe più chiesto di fare un progetto. E noi abbiamo progettato delle opere uniche al mondo. Quindi diciamo che la nostra esperienza ci portava a dire che questo progetto avrebbe avuto questi problemi. Quindi questo libro nasce innanzitutto per evidenziare questi difetti, queste inutili sovrabbondanze. Cioè lo sperpero del denaro pubblico. Ma soprattutto abbiamo voluto che la gente conoscesse le motivazioni con cui sono state scartate le soluzioni alternative che a suo tempo il Comune aveva proposto. La Giunta Cacciari nel 2006 aveva proprio fatto una specie di bando di gara per esaminare diverse alternative. Noi in quell'occasione presentavamo il nostro progetto, ma ce ne erano anche altri. Ecco qui noi documentiamo come, con quale affermazione che in alcuni casi direi che sono ridicole. Chi leggerà il libro se ne potrà rendere conto. Il nostro progetto è stato affossato. Cioè è una cosa veramente incredibile. E allora a un certo punto ci siamo chiesti ma perché sono scese a questo livello? Perché evidentemente non dovevano pensare di non rendere conto a nessuno. Cioè noi abbiamo presentato, questo poi è interessante dire perché recentemente Cantone, che il commissario sappiamo, non devo presentarlo io, ha detto che il Mose è costrato l'80% in più di quello che sarebbe costato in un libero mercato. Quel progetto così com'è, senza vedere come si poteva risparmiare, cioè soltanto per realizzare quelle stesse opere, il libero mercato sarebbe costato 80% in meno. Noi quando abbiamo fatto la stima del progetto, siccome avevamo visto che i costi erano esorbitanti, abbiamo presentato due colonne di costi. Quello fatto con i costi unitari del consorzio e quelli erano i costi di mercato. Per le sole strutture in acciaio la differenza di costi è del 95% in più, molto vicino all'80% di tanto. Ma di questo nella valutazione non si parla, perché non bisognava dire queste cose, perché sennò disturbava il maniuratore. Certo. Quindi ripeto, ma c'è qualcosa di più che è successo dopo? E' ovviamente uguale, adesso dobbiamo andare in pubblicità, dopo abbiamo ancora 20 minuti di trasmissione, in questi ultimi 20 minuti possiamo ancora sviluppare alcuni punti riguardanti anche questa grande opera. Andiamo in pubblicità, ma ritorniamo subito, tra poco.